Arrestato dalla polizia di Montevarchi un cittadino extracomunitario per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le operazioni di contrasto al fenomeno dello spaccio nel territorio comunale, gli uomini della sezione anticrimine del commissariato hanno notato nella mattinata di ieri un'interazione sospetta tra il 31enne poi arrestato ed un'altra persona. Quest'ultima, fermata e perquisita dai poliziotti, nascondeva addosso una dose di eroina. Contemporaneamente è stato fermato anche il cittadino straniero. Sottoposto a perquisizione sono stati ritrovati soldi proventi dello spaccio e due telefoni cellulari. Il passo successivo è stato perquisire l'abitazione del 31enne con l'ausilio della squadra mobile della Questura di Arezzo e dell'unità cinofila della Questura di Firenze che hanno rinvenuto un quantitativo di droga pari a 7,20 grammi. In commissariato il cittadino extracomunitario ha mostrato un comportamento violento colpendo mobili e oggetti vari costringendo i poliziotti ad una non facile opera di contenimento. A questo punto l'uomo è stato tratto in arresto per detenzione e spaccio ma anche per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.